in questo primo semestre del 2023 abbiamo registrato delle tendenze interessanti in primo luogo c'è un effettivo aumento degli acquisti per investimento e questo succede sia a milano ma anche a livello nazionale abbiamo registrato percentuali di acquisti per investimento che non si registravano negli ultimi anni a livello italiano siamo sopra al 19 per cento a milano siamo arrivati al 39 per cento di acquisti per investimento e questo ci fa capire quanto milano sia attrattiva in questo momento per per gli investitori un altro dato interessante è quello che riguarda l'età media degli acquirenti e per la prima volta dopo anni di decrescita dell'età media degli acquirenti l'età media aumenta a livello italiano siamo a 43 anni circa come età media degli acquirenti su milano siamo sui 41 anni in ogni caso è un'età che tende ad aumentare ed è determinata prevalentemente da una maggiore presenza di investitori come abbiamo detto sul mercato investitori che hanno tendenzialmente un'età media più alta siamo intorno ai 39 anni e che quindi alzano l'età media generale degli degli acquirenti un altro dato molto interessante è quello dei flussi dalle grandi città verso l'interland per l'acquisto dell'abitazione principale sia a livello nazionale ma soprattutto su milano registriamo percentuali alte su milano siamo intorno al 30 per cento di persone residenti in città che hanno deciso di comprare poi l'abitazione principale nell'interland le motivazioni in questo caso sono molteplici ovviamente l'aumento dei prezzi nelle grandi città negli ultimi anni e l'aumento dei tassi sui mutui che ha diminuito la disponibilità di spesa degli acquirenti ma anche un'offerta abitativa dell'interland che è leggermente diversa da quella che c'è in città perché nell'interland si possono acquistare anche abitazioni di nuova costruzione e abitazioni soluzioni indipendenti sostanzialmente che piacciono molto in questo periodo grazie a tutti